Ciao Giorgio Ciao Anita Sto lavorando sulla nuova linea di produzione e la tua HR avrai bisogno della composizione dell'organico del costruttivo aggiornato e di un forecast per i prossimi sei mesi riesci a condividere il tutto entro venerdì? Sì certo, venerdì prossimo Sei sempre spiritosa Ok dai, allora aspetta il report entro questo venerdì, grazie Venerdì questo il lavoro che mi ha chiesto Giorgio è lungo, meticoloso io come faccio? Io credo negli ambienti lavorativi come il nostro, la cultura aziendale Anita scusa Mi sono arrivati dieci inviti per la reportistica e HR nuova linea Hai avuto qualche problema tecnico? No, te l'ho mandato io per portarci avanti sulla pianificazione dei futuri incontri di cui avremo bisogno per chiedirci riguardo ai report che mi hai chiesto per venerdì Ah, caspita Così perdiamo un sacco di tempo Se solo avessi una soluzione come InfoBudget InfoBudget lo conosci? Lo sai che adesso è parte di ADP? InfoBudget è il servizio perfetto per la gestione e la previsione del budget del personale Nella mia precedente azienda riusciva davvero a far parlare tutti la stessa lingua Risorso umano e amministrazione Nessuna compilazione a mano Nessuna incompatibilità di dati Reportistica chiara e puntuale È semplice ed è meraviglioso Potrei proiettare i costi del personale nello scenario previsionale della nuova linea con semplicità Lo so, e con una prospettiva del genere Anche l'amministratore delegato dovrà rendersi conto dei vantaggi di avere un partner come ADP Anzi In previsione della nostra... Nel ultimo termine Cosa ne pensi, Anita? 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 Finalmente Giorgio e Anita sono d'accordo Con ADP InfoBudget hai lo strumento giusto per far parlare HR e Finance la stessa lingua Anche entro venerdì Anche anche un'animità Anche un'animità Anche un'animità Anche un'animità sa un'animità Achec populaire Anche o'animità Con Ache Anche un'animità